Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andiamo a vedere un bridge molto utile e costruito secondo me molto bene perché ha delle caratteristiche fondamentali. Ad esempio una caratteristica di queste è evitare che gli utenti brigiando un token da una cena all'altra rimangono senza token gas nativi di una determinata blockchain e questo è un grosso problema, molte volte si rimane bloccati perché non si ha sufficientemente token gas per riuscire a fare questi tipi di transazione. Ovviamente questa funzione va abilitata all'occorrenza e disabilitata all'occorrenza ma non è tutto questo bridge in realtà è un aggregatore di bridge quando noi andremo a effettuare uno scambio multichain andrà a selezionare il percorso migliore tra bridge, DEX, DEFI in generale e ci permetterà di brigiare il nostro token alle tariffe più convenienti alla velocità maggiore e senza grossi problemi. Quello che posso consigliarvi se non siete pratici di bridge cross chain è di effettuare delle piccole transazioni per vedere se tutti i procedimenti sono chiari e riuscite a fare il ponte tra una cena all'altra. Se non avete mai provato un ponte o volete comunque testarlo perché non l'avete mai utilizzato non è di vostro uso consueto fate sempre delle piccole prove con pochi dollari non fate all in in questi tipi di transazioni per evitare errori e perdite di fondi. Il bridge in questione si chiama Bungie, raggiungibile dall'indirizzo Bungie.exchange, mi lascerò comunque il link in descrizione ed è stato sviluppato da Socket che è un protocollo, un'infrastruttura cross chain che permette di creare DAP, protocolli, a trasferire dati, valore, in questo caso anche token e offre una serie di infrastrutture agli sviluppatori che vogliono creare sul loro protocollo questi tipi di applicazioni. Partiamo dal profilo Twitter che facilmente vi farà raggiungere anche questo aggregatore di bridge. Se volete essere informati sugli ori sviluppi andate a dare il follow a Bungie, Bungie Exchange. Clicchiamo però appunto sul link che troviamo sul profilo di Twitter, Bungie.exchange e ci apre questa schermata. Schermata veramente semplice e intuitiva dove abbiamo la possibilità di trasferire token cross chain. La prima cosa che dobbiamo fare comunque è cliccare sui tre pallini che abbiamo in alto a destra, andare a leggere i documenti e unirci come abbiamo fatto prima a Twitter, Discord o andare a leggere comunque le domande più comuni e se abbiamo bisogno contattare il supporto. Ma la cosa principale è andare sempre a leggere i documenti per capire meglio come funziona un protocollo o in questo caso un bridge. Successivamente dobbiamo connettere un portafoglio, se vogliamo utilizzare ad esempio Metamask, clicchiamo su Connect Wallet, abbiamo a disposizione diversi wallet, noi andiamo a cliccare su Metamask perché in questo caso come sapete io uso sostanzialmente Metamask. Rileva il nostro portafoglio e da qua possiamo partire con il nostro bridge. Ovviamente dobbiamo aver settato su Metamask le catene con cui vogliamo interagire, se non sappiamo aggiungere delle catene, non abbiamo i dati per farlo, come sempre ci viene in aiuto Chainlist dove possiamo andare a selezionare il network per nome, includendo eventualmente anche le testnet, questo è molto utile per gli airdrop, comunque andando a selezionare un network come ad esempio Arbitrum One, possiamo cliccare su Add to Metamask e in automatico questa chain viene settata su Metamask. Vi ricordo, anche se questo bridge ha la funzione per riuscire ad avere, a seconda delle cene che si utilizzano, non su tutte ovviamente per ora, dei token gas, noi ogni volta che interagiamo con delle blockchain dobbiamo avere i token utility, i token gas di quella chain per poter pagare le fee. Ethereum abbiamo ad esempio, ad esempio bisogna utilizzare Matic, comunque andando su Chainlist, oltre ad aggiungere la catena al vostro wallet, avete la possibilità di andare a vedere qual è il token gas fee che dovete avere per forza all'interno del wallet per pagare le fee e eventualmente anche per fare swap, interagire con exchange, comunque bisogna sempre avere il token dedicato a una chain. Ad esempio adesso andiamo a fare una prova di bridge, se clicco su Metamask andiamo a vedere sulla mia rete principale 0.02 Ethereum e ad esempio su Binance Marcein 14.80 dollari pari a 0,047 BNB al cambio attuale. Come vedete non ho la rete Polygon, io voglio scambiare qualche BNB dalla Binance Marcein andando sulla rete Polygon. Allora vado su Chainlist, clicco su Polygon Mainnet, aggiungo a Metamask, come vedete il collegamento è semplicissimo, approvo gli RPG, switch all network e in questo caso andando su Metamask vedrete che ho installato Polygon Network. Ritorno sulla mia Binance Marcein, ritorno sul bridge e in questo momento su questa schermata potremmo fare due opzioni, una qualora avessi il token di riferimento, ad esempio volendo mandare dalla Binance Marcein, se avessi USDC, ma come avete visto io solo BNB quindi non ho USDC, ve lo faccio virtualmente. 5 USDC dalla mia Binance Marcein al mio portafoglio a Polygon per andare a ottenere USDC da Binance Marcein a USDC di Polygon. Vado ad inserire il quantitativo, mi viene scritto qua sotto il percorso migliore e mi dà ovviamente anche delle altre opzioni, però in automatico mi va a selezionare il percorso migliore, ad esempio come costi e velocità, quindi utilizzando Connex. Per un totale di 4 minuti circa della transazione con le Fee 0.2 dollari. Andrei a scambiare 5 USDC per ricevere 4,92 USDC al netto delle Fee. Ovviamente per fare questo bridge io dovrei avere BNB nel mio wallet, infatti ho BNB. E qua sotto vengo avvisato che su Polygon non ho Gas Fee, quindi potrei scegliere di andare a comprare Matic all'interno di un exchange oppure abilitare questa funzione. Abilitando questa funzione che cosa succede? Mi va a togliere, come vedete, un pochino di BNB dal mio wallet principale, dalla mia transazione principale, per trasformarli in 0.5 Matic, che è quello che mi serve sufficientemente per effettuare tutta la transazione, per avere un po' di Gas Fee anche su Polygon Matic. Ovviamente qua sotto mi va a indicare che non ho USDC all'interno del wallet. Comunque avete capito, la transazione è veramente semplice. Quello che posso fare io, addirittura perché ho BNB nel portafoglio, è andare a selezionare BNB, andare a dire che voglio cambiare, ad esempio, 0.005 BNB per andare a ricevere, in questo esempio, USDC. Addirittura qua cosa sto facendo? Io sto facendo un'operazione crosschain da Binance Marceina a Polygon, ma di due token differenti. Io sto mandando BNB per ricevere USDC, quindi sto facendo un crosschain swap. In questo caso ho il token di riferimento, clicco su Review, abilito la funzione del Gas Fee perché non ho Matic all'interno del wallet e vado a fare il Bridge. In automatico il portafoglio si connette, approvo la transazione e come vedrete in pochi minuti avrò quel poco quantitativo di USDC sul mio Metamask, sul Polygon, swapandolo da Binance Marceina. Perfetto, vedete che sta facendo il Refuel, quindi sta toliendo un pochino di BNB per avere dei Matic, sta facendo lo swap e poi andrà a brigiarla. Intanto se andiamo a vedere sul mio Metamask da 14 e poco più dollari di BNB, sono arrivato a 12.55, vuol dire che mi ha già tolto la prima parte del Refuel. Infatti se vado su Polygon, che dovrei avere 0 Matic perché ho appena installato Polygon, invece mi troverò 0.258 Matic, quindi siamo al primo passaggio dove mi sta dando del Gas Fee, quindi Matic, prendendolo da BNB. Anzi, in questo momento addirittura ha anche completato il Bridge. Andiamo a vedere se i miei USDC sono già stati inviati, non ho USDC perché devo importare il token, non ce l'ho come visualizzatore. Cosa faccio? Vado su Google, cerco USDC Matic, vado a copiarmi il contratto decimale 6, mi risposto su Metamask, importa token, lo copio, USDC decimale 6 mi viene in autonomia, importo e in questo momento io ho ottenuto 1.49 USDC dalla Binance Smart Chain a Polygon Matica, addirittura facendo uno swap da BNB a USDC. Cioè Transaction History, abbiamo ovviamente tutta la lista delle nostre transazioni, volendo nella sezione Refuel possiamo fare uno scambio di token per avere il Gas Fee di una determinata chain, oppure utilizzare il metodo che abbiamo visto prima, abilitarlo direttamente all'interno della transazione. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, l'abbiate trovato utile, ma soprattutto interessante. Mi raccomando, se vi piacciono i miei contenuti e avete piacere di supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, lasciatemi un like se avete voglia, unitevi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Io vi saluto, vi ringrazio per essere rimasti fino a questo punto del video e ci vediamo presto. Ciao!